bruno guida lo scuola bus lucido e metodico e non passa mai dalle parti della vecchia casa di famiglia bruciata per un misterioso incendio in cui è morta sua sorella anna e tutti in paese credevano un indemoniata bruno ha un dolore serena la ragazza che l'ha lasciato da più di un anno e che lui continua a cercare seguendo le tracce del suo successo bruno ha molti amici i bambini e le bambine che porta a scuola francesco martina christian e chiara e attraverso di loro rivive la sua infanzia bruno riesce a vedere bene la strada anche nella nebbia ma c'è qualcosa che bruno non può assolutamente vedere e che rischia di travolgere tutto perfino i suoi piccoli amici se qualcuno non riuscirà a fermarlo